Si raccusa poliziotti controlli ai domiciliati, due denuncianti di 21 e 26 anni. Nonostante le limitazioni imposte per il contrasto dell'emergenza epidemiologica, la Polizia di Stato ha rivolto particolare attenzione al monitoraggio delle persone ristrette da vincoli giudiziari domiciliati nel territorio, nel centro e dei soggetti orbitanti per i precedenti di polizia nell'ambito della criminalità comune e diffusa con particolare attenzione al settore dello spazio degli stupefacenti. Nell'ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo dei soggetti che in città sono sottoposti a limitazione della libertà personale, agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 21 anni di origine rumene per avere violato le prescrizioni relative al regime degli arresti domiciliari cui ha sottoposto. Nella fattispecie il giovane è stato trovato a casa in compagnia di un'altra persona, ma estranea al nucleo familiare, che gli stava tagliando i capelli a domicilio. Inoltre, agenti delle volanti hanno denunciato un altro giovane di 26 anni, Siracusano, per non aver osservato la misura dell'obbligo di dimora a cui è sottoposto.